Bella a tutti i Forniteers, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci in questo video per andare a vedere gli incarichi settimanali i primi incarichi settimanali della settimana 0 di questa nuova stagione Fortnite Remix ottieni scudi e salute presso The Dog Pound, quindi la casa di Snoop Dogg andiamo qui, cerchiamo di trovare scudi o salute, 125 punti colpisci avversari con una pistola a tamburo, la pistola a tamburo la conosciamo gli avversari andranno bene, qualsiasi scopri i luoghi indicati, dobbiamo andare in questi posti praticamente tutti perché sono 2, 3, 4 sì, sono tutti, dobbiamo farlo 15, dobbiamo scoprire tutta l'isola distanza percorsa e scatto 250 metri o quelli che sono raccogliarmi dai giocatori eliminati 10, quindi abbastanza facili come incarichi adesso andiamo a fare gli scudi da Snoop Dogg intanto direi di lasciarci dove avrò visto queste prime primi incarichi della settimana 0 e ci vediamo presto con i singoli video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti